Uccise a colpi di chiave inglese la compagna e ne nascose il corpo in una roulotte parcheggiata in un terreno di Torre del Lago. Per quel delitto, consumato nel luglio del 2019, la Corte di Assise di Lucca lo ha condannato a 23 anni di reclusione. Si è concluso così il processo a carico di Graziano Zangari, l'operaio calabrese 48enne responsabile della morte della 40enne Chiara Corrado di San Giuliano Terme. L'uomo fu arrestato quattro mesi dopo il delitto dai carabinieri che lo rintracciarono in Calabria dove si era rifugiato. In aula aveva ammesso le proprie colpe raccontando come si erano svolti i tragici fatti. La lite scoppiata all'interno di un container di un cantiere d'Ile, lite degenerata anche a causa dell'assunzione di cocaina, fino all'uccisione di Chiara, il cui corpo venne avvolto dallo Zangari in alcuni sacchi di plastica e nascosto in un'altra roulotte per poi fuggire in Calabria. Fu il proprietario della roulotte stessa, ritenuto estraneo ai fatti, ad avvertire le forze dell'ordine del cattivo odore proveniente dal caravan, permettendo così di rinvenire il cadavere della donna. I giudici hanno disposto anche un risarcimento provvisionale di 50.000 euro al figlio minorenne della vittima e di 15.000 euro a testa alla madre e al fratello, costituiti si parte civile. I disapplicazione dell'aggravante della convivenza, per la quale ritengono che sia stata applicata una norma che all'epoca del delitto non era ancora in vigore. Una sentenza che ha invece soddisfatto il pubblico ministero Elena Leone, che aveva chiesto 25 anni e le parti civili.